Insegnare la legalità e lo spirito di servizio anche ai giovani delle scuole attraverso gli aneddoti e le esperienze vissute e raccontate nei suoi libri da Pino Bono durante gli anni 70 e 80 insieme ai suoi colleghi falchi del reparto mobile della polizia di Catania. Oltre all'istituto Ferraris, l'autore è stato ospite questa mattina anche di Sveglia la Notizia, la rassegna stampa del gruppo RMB. Pino Bono, allora la presentazione del libro, i ricordi, ma il tema dell'ordine pubblico della sicurezza è sempre di grande attualità. Che cosa sta succedendo nella polizia? Le problemiche sui manganelli di Pisa, come si gestisce l'ordine pubblico oggi? È giusto che lo Stato mostri anche la mascella volitiva, la faccia dura dello Stato? Io penso di sì, io non voglio entrare in merito, però il discorso del manganello se noi facciamo vedere solo quelle immagini finali e non raccontiamo quello che è successo prima e allora chiunque prova una forma di sdegno. Io non perché sono un ex poliziotto, però penso che determinate cose non si devono fare, anche dall'altra parte. Tu stai fronteggiando lo Stato, tu stai ostacolando lo Stato e in quel momento il poliziotto deve reagire in quella maniera. Forse magari qualcuno esagera, però io condivido quella reazione dei colleghi che hanno avuto la capacità e la forza di respingere una forza che va contro lo Stato. L'istituzione dei falchi a Cataina che tu racconti nel libro e di cui tu parli con i ragazzi soprattutto di divulgazione storica, fu un momento in cui lo Stato volle reagire anche mostrando, come dicevamo prima, il suo volto anche capace di contrapporsi a un'arroganza della delinquenza. Ma io sono di un parere. Quando parlano male magari dell'amministrazione, io sono contrario perché sono le persone che fanno l'amministrazione. Ora noi abbiamo avuto un periodo in cui l'amministrazione è stata gestita da persone capaci, non tutti. A Catania è arrivato un questore, che ricordo Emanuele De Francesco il quale ha dimostrato una capacità di gestione, ma una capacità di reazione che ha dato i suoi frutti ed è stato riconosciuto in tutto il mondo. Ecco, noi abbiamo bisogno di persone capaci. Sono chiamati i tempi, chiudiamo qui, ma non l'emergenza. Tu ricordi sempre che la mafia è lì, viva e bisogna combatterla. Guai dimenticare, guai essere coinvolti in questa specie di Pax che esiste. La mafia esiste ed è più forte di prima. Il fatto che non ci siano omicidi, non ci sono fatti eclatanti che scuotono un po' quella che è l'opinione pubblica, è negativo. E forse fa il gioco di qualcuno. Io dico che la mafia oggi è a Catania e dico anche che è una polveriera a Catania.